Buonasera Ministro Marco Menditti, Signora Mia Calcio News, come si può dire una partita un po' rocambolesca. C'è un problema forse mentale di questa squadra? Perché la Juventus è riuscita benissimo, molto molto bene a riacciuffare la gara, poi dopo c'è stato questo down che è inspiegabile. Ecco, potrebbe essere un problema mentale tutto questo. Grazie. No, assolutamente no. In questo momento prendiamo un po' troppi gol, anche la prima punizione siamo stati molto bravi loro, il secondo gol potevamo evitarlo dopo aver fatto uno sforzo, bisognava difendere un pochino meglio sicuramente, però la squadra ha fatto una buona prestazione, abbiamo creato, il secondo tempo è stato anche meglio del primo, e il primo tempo tra l'altro abbiamo subito poco e niente, perché l'Atalanta credo che non abbia mai tirato un porta, noi in tre o quattro situazioni potevamo essere un pochino più lucidi. Non era semplice, però alla fine è un risultato che ci consente di guadagnare un punto sul Bologna, mantenere l'Atalanta a 11 punti, perché il nostro obiettivo comunque è quello di andare a giocare la Champions l'anno prossimo e credo che sarebbe un bel risultato. Buonasera Ministro, Luca Cavallaro, Tim Voredio, volevo chiederle se è soddisfatto della prestazione di Lin Junior e se tatticamente gli aveva chiesto qualcosa di particolare, grazie. Sono soddisfatto di tutti i ragazzi della prestazione, perché comunque tutti hanno messo il massimo impegno, magari potevamo far meglio in alcune situazioni, però sotto il punto di vista dell'impegno, della negazione, della voglia, questa squadra non è mai mancata. Siamo in un momento in cui abbiamo fatto poche vittorie, però i punti sono quelli, sono 58, è normale che ora bisogna fare un po' di vittorie per cercare di arrivare alla quota Champions. Sperando di arrivarci, che è la cosa più importante, intanto pensiamo alla partita con il Genova, che sarà una partita difficile comunque dove dobbiamo cercare di tornare alla vittoria. Buonasera mister, Simone Nasso, oggi Sport Notizia. In tanti in queste settimane hanno sottolineato il periodo di fragilità della retroguardia bianconera, dopo che a lungo era stata tra le difese migliori in Italia e in Europa. In una partita come quella di oggi però, per realizzare due reti, sono serviti 18 tiri, di cui 5 nello specchio e anche a Napoli abbiamo visto diverse occasioni sciupate. In virtù di questo le chiedo, qual è il principale problema di questa Juventus in questo periodo di crisi? Grazie. Diciamo che nel calcio esistono anche questi momenti che vanno affrontati con le spalle larghe, la testa alta, perché comunque oggi, dopo il primo tempo dove eravamo sotto, sicuramente non era un bel momento e i ragazzi hanno avuto una bella reazione. Poi bisogna essere più precisi sotto porta, bisogna essere più precisi nell'ultimo passaggio, bisogna essere più forti quando siamo vicini all'aria. Il primo tempo lo siamo stati. Nel momento del secondo tempo, in quel momento lì, non ci siamo raccorti e abbiamo subito questo gol. Francesco Pellino, Agenziare. Mister, considerando le ultime sette partite e l'andamento della partita di stasera, è più un punto guadagnato o sono due punti persi per la Corsa Champions? Matematica è un punto guadagnato, perché abbiamo guadagnato un punto sul Bologna e abbiamo tenuto l'Atalanta a 11 punti. Quando si gioca per il campionato, a volte un punto sembra che siano due punti persi. Invece, alla fine del campionato, il punto ti può decidere se entrare o non entrare. Quindi stasera è una partita molto delicata, sotto di un gol, non era facile reagire, visto il momento, comunque vista la prestazione della squadra che aveva fatto al primo tempo. Ciao Antonio Pellino, Radio Bianconera. Ti chiedo se sono ingenuo a definire la difesa della Juve in Genua nelle ultime settimane e se ti dà un po' fastidio essere stato scavalcato dal Milan, perché settimane fa parlavi dobbiamo stare attenti al Milan, che era molto più lontano. Ci ha rubato parecchi punti e quindi bisogna rovesciarlo. È un'opportunità per noi, perché ci deve da stimolo per cercare di riconquistarci il secondo posto. Salve, mister Giorgio Musso di Calciomercato.it. Le chiedo cosa pensa dei fischi a primo tempo e se le hanno dato fastidio. Grazie. No, assolutamente no. Io credo che, diciamo, ai ragazzi non c'è da rimproverare assolutamente niente per quello che stanno facendo in campionato. È un momento sicuramente difficile, però difficile. Nel senso che abbiamo fatto meno punti di quanto tutti ci aspettavamo, però i 58 punti li abbiamo fatti e l'impegno massimo c'è sempre stato e quindi soprattutto io dico che in questo momento e da qui alla fine del campionato, dove mancano 5 partite in casa e 5 fuori, soprattutto di 5 in casa, c'è bisogno di tutti, di tutto lo stadio, perché comunque l'anno prossimo credo che giocare la Champions è un bene per tutti, per noi, per i tifosi, per la società, per voi e quindi tutti bisogna rimanere dalla stessa parte e quindi bisogna, soprattutto a una squadra, che questa è una squadra di cuore, credo che si meriti anche l'aiuto, indipendentemente da cosa si può sbagliare tecnicamente, tatticamente, l'allenatore e tutto, però è una squadra che ha bisogno in questo momento ma soprattutto perché è un obiettivo di tutti. Buonasera mister, Simone Indovino, Buona TV, volevo chiederle cosa c'è dietro la reazione dei suoi ragazzi tra il primo e il secondo tempo, nel senso una strigliata sua, uno scatto d'orgoglio da parte loro, cioè cos'è che fa rendere questa Juve in maniera così diversa tra il primo tempo che abbiamo visto e il secondo tempo che abbiamo visto? Grazie. Il primo tempo è stato fatto un primo tempo buono, abbiamo sbagliato alcune scelte, poi questo gol nel momento in cui stavamo facendo bene, non avevamo rischiato niente, ci ha tagliato un po' le gambe, sono momenti e momenti della stagione, quindi abbiamo avuto una reazione, però sono tutte opportunità che fanno crescere tutti questi giocatori, di quelli anche più giovani, che hanno meno esperienze, soprattutto meno poche partite nella Juventus, che è quello che conta, e quindi possono solamente crescere. Quindi l'obiettivo nostro è la Champions, abbiamo davanti a un punto il Mina, ora ci dobbiamo recuperare, perché comunque domenica rientrerà Vlavic alla squalifica, speriamo di avere la B.O., quindi rientriamo tutti a disposizione per questo rush finale. L'ultima, Gamba. Ciao, Gamba Repubblica, voglio chiederti qualche spiegazione sulla punizione del primo gol dell'Atalanta, dove loro hanno fatto uno schema e voi siete rimasti completamente immobili, e per certi versi è una situazione che ha ricordato anche il secondo gol del Napoli domenica, dove loro avevano preparato qualcosa e voi siete stati passivi, cioè capire in quella situazione cosa dovevate fare, cosa era previsto che facessero, se qualcuno non l'ha fatto, oppure se siete rimasti semplicemente sorpresi. No, siamo rimasti sorpresi, diciamo che è una situazione che potevamo evitare, potevamo leggere un po' meglio, e su cui ci dobbiamo assolutamente lavorare. Come dobbiamo lavorare sul secondo gol uguale. Ancora una, Gianluca. Sì, grazie. O Donino Stampa. Solo una curiosità, per capire se Costi c'è un problema fisico, o invece una scelta tecnica le due partite di fila non giocate, grazie. No, una scelta tecnica, in questo momento Iling sta facendo bene, Costi c'è un giocatore importante per noi, però ho fatto solamente una scelta tecnica, Iling ha fatto un buon secondo tempo. Grazie a tutti. Grazie, buona serata.